Era inimmaginabile? No, questo ormai non possiamo più dirlo, era immaginabile che ci fossero proteste violente, per quanto possa contare, mi rendo conto, niente, noi di Limes lo avevamo più volte scritto, l'ultimo numero dedicato agli Stati Uniti di Limes che è uscito a dicembre si intitolava Tempesta sull'America. Detto questo, il fatto che potessero esserci manifestazioni che si rivelassero in maniera così scenografica ed anche drammatica, se ci sono stati dei morti, è stato interrotto il voto di validazione del collegio elettorale nel Parlamento, che questo potesse accadere in questo modo non era obiettivamente immaginabile. Si sono intrecciati almeno un paio di elementi sul piano tecnico, mi intendo. Il primo è il fatto che il Congresso, cioè il Parlamento, è da sempre molto poco difeso, non è un fortino, perché l'idea voluta fortemente da parlamentari è che non ci debbano essere troppi diaframmi tra la politica americana e i cosiddetti cittadini, qualsiasi cittadino sia. Tant'è vero che fino a 1968, così per renderci conto di che cosa parliamo, il servizio d'ordine del Congresso era composto da studenti universitari part-time, poi dopo le manifestazioni di fine anni 60 è stato affidato ad una polizia professionale, ma sempre molto lasca. Aggiungiamoci poi un elemento più contemporaneo, cioè che poi si segnala subito in maniera plastica, ad esempio come differenza con le manifestazioni di Black Lives Matter che abbiamo visto nei mesi scorsi. La sensazione nella forza di polizia, cioè fra i poliziotti per intenderci, che poi i cittadini bianchi americani sul piano della profilazione razziale, cioè bianchi e germanici, l'americano standard per com'è nell'immaginario, abbia più diritto a protestare delle minoranze, questo negli Stati Uniti esiste, non possiamo nasconderlo. Gli Stati Uniti non sono un paese convenzionale, sono un impero, hanno un ceppo dominante, il ceppo dominante è composto da cittadini anglosassoni, bianchi, ai quali viene obiettivamente lasciato un margine di manovra che le minoranze non hanno. Concludo ricordando anche, anche questo non possiamo nasconderlo né tacerlo, che il malessere interno agli Stati Uniti è molto profondo, se buone discutiamo è composto da radici differenti, è altrettanto vero che il presidente uscente degli Stati Uniti, ovvero Donald Trump, lo ha cavalcato in maniera troppo disinvolta, potremmo dire spericolata, potremmo dire anche pericolosa. Nel momento in cui ha scelto di continuare per ragioni, io credo non essendo Trump esattamente una persona non razionale in assoluto, ma per ragioni personali, politiche, per suo vantaggio politico, mettiamola così, ha scelto di cavalcare questo tipo di divisione e condurle al parossismo. Avendole condotte al parossismo si ritrovano oggi gli Stati Uniti con un danno d'immagine, perlomeno d'immagine molto grave anche nei confronti dei loro antagonisti, che hanno assistito alla prima potenza del pianeta che non è neppure in grado di impedire a dei fascinerosi, in alcuni casi folcloristici, in altri pericolosi, di entrare nel Parlamento. Insomma l'Italia, noi siamo un paese latino, spesso gli anglosassoni ci prendono molto poco sul serio a causa di tutto ciò, beh in Italia questo non è mai successo. Tra l'altro lo abbiamo detto, i lavori al congresso sono ripresi, lo possiamo vedere anche in questo momento, perché sono ore molto importanti, che non si esauriscono naturalmente, e ne si concludono con quanto accaduto nelle scorse ore, ieri sera insomma per noi in Italia. E adesso è arrivata la notizia che il vice consigliere per la sicurezza nazionale, Matt Pottinger, si è dimesso in seguito all'assalto al congresso, da parte, qua vengono definiti dei fan, dei fan di Donald Trump. Anche questo, insomma, Fabri è un punto molto importante, in qualche maniera, come dicevi tu, si è avuto l'impressione a un certo punto che questa situazione in qualche modo, almeno in parte, sia stata, non voglio dire favorita, ma che le maglie fossero davvero molto larghe. Ti riferisci al condone sicuritario? Sì, sì. Sì, sì, basta vedere le immagini. Anche qui, come diciamo, c'è da stupirsi, ma fino ad un certo punto, perché il Parlamento americano, come dicevamo, è sempre poco difeso, per quanto assurdo possa sembrare. Insomma, noi non fatichiamo a rendercene conto. C'è anche una questione di etichetta, lo dicevo nella coda nel mio primo intervento, un paese anglosassone come gli Stati Uniti crede, più o meno, nella legittimità del gentiluomo. Cioè, siamo anglosassoni, abbiamo la capacità, a differenza dei latini, nemmeno a dirlo, di altri popoli, di mantenere a bada le nostre passioni, specialmente in un paese come gli Stati Uniti, che fa totalmente o quasi a meno della politica, in cui la politica è totalmente irrilevante, più o meno, anche se noi siamo convinti, perché siamo europei, che sia fondamentale. I partiti americani sono luoghi dell'anima, nemmeno esistono nella realtà. Per tutte queste ragioni c'era il pregiudizio e il complesso per cui difendere il Parlamento può essere quasi inutile. In più, mettiamoci quanto dicevamo, che quando i manifestanti sono bianchi e germanici, beh, allora il modo di intervenire nei loro confronti è da sempre più lastro. Ma molto più lastro, peraltro molti di questi sfoggiavano bandiere suddiste, cioè confederate, quindi provenivano da quella parte del paese, il sud, si intende, che è notoriamente bianco, addirittura in molti casi anche d'origine britannica, più del resto della nazione. Quindi questi fenomeni, queste tendenze si sono incrociate in una giornata decisamente drammatica, non solo sul piano dell'immagine, ma soprattutto sul piano dell'immagine. Senti, sicuramente il principale protagonista di questa situazione è Donald Trump, uscire così di scena è drammatico, era appunto per alcuni forse davvero impensabile. Ma ci sono delle responsabilità da parte dei repubblicani in tutta questa storia? Senza dubbio, ci sono delle responsabilità. Se noi immaginiamo soltanto che poche ore fa, nella notte italiana, mentre il voto di validazione proseguiva, è ripreso, e prosegue al Parlamento americano, sei senatori repubblicani non hanno abbandonato il proposito, anzi lo hanno realizzato, il proposito di contestare almeno nello Stato dell'Arizona, per lo Stato dell'Arizona, il voto del collegio elettorale. Sono sei senatori, tutti del sud, tranne uno, che è invece del Kansas, questo che vuol dire, cioè quindi ritorniamo a quel sud a cui facevo riferimento poco fa, più uno Stato del Midwest, cioè il sud del Midwest, l'America profonda, come si dice spesso con un termine abusato, che per ragioni non soltanto proprie in questo caso, ma anche di cultura, di futuro, mettiamola così, politico, hanno scelto di rimanere a fianco di Trump. Trump nella giornata di ieri di fatto ha chiuso quell'opa ostile sul partito repubblicano che aveva cominciato quattro anni fa, anzi più di quattro anni fa, essenzialmente lo ha definito defunto, sono parole sue, partito repubblicano, segnalando l'intenzione di diventarne unico al fiere anche nei prossimi anni. Insomma Trump ha necessità di rimanere in politica, non può lasciare la politica per ragioni anzitutto personali, non soltanto legate ai suoi affari, ma proprio di incolumità personale, cioè Trump è consapevole, per essere molto crudi, di avere più di un nemico all'interno degli apparati dello Stato federale e dunque deve rimanere in quella politica che peraltro sul piano del suo narcisismo tende a soddisfarlo molto bene. Nei prossimi anni il ruolo che hava Trump, anzitutto quello di Presidente Ombra, non immaginiamo che Trump si eclissi nella notte, questo non succederà, continuerà ad intervenire attraverso chissà quali social, lo staremo a vedere su ogni provvedimento di Biden, forse tra un paio di anni si candiderà al Senato, questo può essere fantascientifico detto oggi, ma se Trump temesse veramente molto per la sua incolumità potrebbe scegliere l'immunità e candidarsi al Senato e chissà tra tre anni addirittura riprovarci come indipendente, non ne ho idea, oggi è difficilissimo da dirsi, o come al fiere di quel partito repubblicano che ha definito defunto candidarsi nuovamente alla Casa Bianca, ma questo avrà effetti sulla società americana non indifferenti. Eh, assolutamente, pedullà. Quindi Trump...